L'acqua del Gran Sasso, distribuita da Ruzzoreti sul territorio terramano, è buonissima, di ottima qualità e non affatto inquinata. Lo precisa la Procura della Repubblica di Teramo, che giorni fa ha aperto un'indagine sui punti di captazione vicino ai laboratori di fisica nucleare, sequestrandone uno. Il senso dell'indagine, spiega il Procuratore Antonio Guerriero, è quella di denunciare il serio rischio che incombe sulle sorgenti acquifere a causa della inadeguata impermeabilizzazione tra queste e i laboratori e il traforo del Gran Sasso. Il reato che l'indagine della Procura di Teramo vuole evidenziare è il reato di pericolo. A noi interessava evidenziare all'Abruzzo, l'intero Abruzzo, che ha un problema. Abbiamo due strutture di livello nazionale, che sono il laboratorio e che è la galleria. Beni fondamentali per l'economia, per la cultura, per la ricerca dell'Abruzzo e dell'intera nazione, che noi non vogliamo assolutamente toccare, anzi valorizzare. Ma di queste due strutture devono essere resi compatibili con altri tanti beni primari, che sono l'ambiente e la salute. Perché stanno all'interno di un'enorme spugna di circa mille chilometri quadrati da cui arriva l'acqua che ristora l'intero Abruzzo. Il Procuratore Guerriero ricorda anche che quasi 18 anni fa furono spesi sotto la gestione Balducci 80 milioni di euro per mettere in sicurezza e impermeabilizzare traforo e laboratori. Lavori inadeguati e parziali che non hanno risolto il problema del rischio contaminazione con quel fiume d'acqua che scorre sotto le due infrastrutture. Questi lavori non sono stati completamente attuati, in parte sono stati fatti, ma non completamente. E lo stesso riguarda le gallerie per cui furono stanziate dei fondi che prevedevano la impermeabilizzazione di tutta l'area. Perché sotto la galleria c'è un fiume d'acqua che arriva nel versante Terramano e nel versante Aquilano. Di questo fiume d'acqua doveva essere impermeabilizzato l'intera galleria di 12 chilometri. E' stato impermeabilizzato, almeno questo è l'accertamento, un chilometro solamente. Per cui chiaramente se ci stanno degli incidenti nella galleria c'è il pericolo che queste sostanze che sono trasportate possano finire in queste enorme fiume d'acqua, altrettanto adeguati in laboratorio. Se ci sono esperimenti scientifici con sostanze pericolose, anche qui va predisposto un adeguato isolamento per evitare che questi esperimenti scientifici possano deniare pericolo per la salute. E poi la raccomandazione finale del procuratore guerriero è i cittadini. Nessun allarmismo, bevete l'acqua del ruzzo con tranquillità. Io la bevo tutti i giorni.